Ciao ragazzi, oggi siamo in giro per il Chianti, ma c'è una novità. Siamo in compagnia di una splendida signora, un po' datata ma splendida, la Fiat 500 Vintage. Non è stato semplice averla, ma l'abbiamo presa per voi, la proveremo in giro per le nostre strade. Andiamo! La Fiat 500 Vintage Eccoci di nuovo, che dire, girare nelle nostre strade per queste colline con quest'auto è un'esperienza unica, sembra di essere tornati indietro nel tempo. Certo, guidare una 500 Vintage non è per tutti. Se sei abituato ad una macchina moderna, devi un po' prenderci la mano. Il cambio, il volante, è tutto diverso, però è veramente emozionante. Anzi, visto che siamo tornati agli anni 70, mi accendo anche una sigaretta, ragazzi. Continuiamo il giro. Fiat 500 Vintage, around the Chianti Hills. 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 vivere Chianti con questa 500 io sono troppo contento tettuccio aperto, aria nei capelli, l'aria condizionata non esiste veramente l'Italia di Federico Fellini proviamo quelle emozioni lì dovete provare assolutamente a vivere i Chianti girando con una Fiat 500 siamo alla fine di questa giornata fantastica non possiamo far altro che consigliare di noleggiare questa macchinetta ad altri tempi che ci ha dato tantissime soddisfazioni oggi assolutamente Chianti Explore consiglia la Fiat 500 per girare e vivere la nostra terra è tutto alla prossima ragazzi ciao